In queste ore, tornando un attimo all'attualità, il governo ha ottenuto la fiducia, tutti i partiti hanno dato il loro appoggio, come dicevamo prima anche con Sabini. Il Movimento 5 Stelle, lo saprete, prima di dare il suo sì, ha chiesto il voto sulla piattaforma russo ai suoi iscritti, la cosiddetta base grillina si è espressa. Ma che cos'è effettivamente la base grillina? Chi sono queste persone? Noi abbiamo voluto andare ad indagare e abbiamo in collegamento un membro della base grillina. Ci sente? Buongiorno. Funzione, il collegamento? Buongiorno. Aspetti che ha la faccia quadrata, c'è qualcosa che... C'è un problema sul collegamento, forse. No, no, è la base, sono proprio la base... Ah, poi della base. Ah, va bene, capito. La base. Senta, ci vuole raccontare queste lunghe ore del voto? Ma cos'è? Per noi della base grillina non è stato facile, perché noi della base eravamo per il no. Ma questa è una notizia però. Se poi Grillo ha detto che lui è per il sì, a Di Maio ha detto che lui si fide di Grillo, noi si fidiamo di Di Maio. È un po' come il gioco del cerino in mano, o del cetriolo, quell'altro del cetriolo... Cerino o il cetriolo, sono due cose diverse. Non lo so, è sempre quel gioco lì. Comunque, niente, ci hanno dato questo... abbiamo votato sì, perché abbiamo dato il voto perché ci hanno dato il ministero della transazione ecologica. Transazione ecologica... ecco, che cos'è? Scusi. È un ministero? Sì, ma che ministero è? Della transazione. Sì, vabbè, questo... Per fare il bene del paese si deve ingoiare noi della base, noi della base grillina ingoiamo qualche rospo, ecco. Ora comunque, tutti insieme uniti avanti, ci siederemo al tavolo con lo psiconano. Silvio Berlusconi vuole dire, credo. Silvio Berlusconi, poi al tavolo ci sarà la Lega Ladrona... No, gli amici della Lega, credo che... Gli amici della Lega, gli amici della Lega, e poi il partito di Bibiano... Il PD, vuole dire, il PD. Il PD, il PD, il PD. E anche Renzi, anche Renzi. C'è pure Renzi, eh? Sì, però su, avete comunque ancora Di Maio agli esteri, glielo ricordo. Eh sì, dopo tutto sto casino è rimasto Di Maio agli esteri. Sì. Portacci su... Ma come? Cosa c'è? No, no, dico, no? Dico, noi della base... Sì. Dopo tutto sto casino c'è ancora Di Maio, e resta lì, capito? Sì. Vabbè. Nella domanda, nella domanda, quella su Rousseau, lo psiconano non c'era, lo psiconano. Questo è vero. E anche Renzi c'era. Ha ragione. A parte che tanto dura poco, perché questo... Dura poco, no? Questo governo dura poco, dura poco. Dipende, veramente. Eh, no, dai, dura poco. Perché c'era scritto, volevate voi che il governo Draghi che fa quello che diciamo noi? Sì, nella domanda era così. Era così. Nella domanda era così, c'erano qualche virgoletta a casa, così, però... E poi, quindi, Brunetta l'abbiamo deciso noi. È pare di sì. Capito? Sì. È un po' come la barzelletta di quello che si taglia il pisello per fare un dispetto alla moglie. Sì. Il marito che fa il dispetto alla moglie. Voi sareste il marito in questa barzelletta. No, noi siamo il pisello. Va bene. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Sì. 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 Sì.